la stessa cosa poi ho trovato un insetto eccola la furbucina che continua a muoversi bella furbucetta dove scappi piccolo dov'è? lo prendiamo sopra aspetta ce ne sono altri lì forse c'è la tana non ho mai visto una forbice in primo piano forse hanno preso la sua preda guarda forbicette hanno il loro buco guarda lì cosa sono quelli piccoli gialli due furbucette tre altra non manca questo è tuo franzi quella che bella ha scoperto la maestra guarda lì 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 dobbiamo fare il giro questo è interessantissimo anche i velli sono strome gaminose ma guarda che le forbiche quando sono si ma andrò giù con un gruppetto a 11 e mezza quelli che sono già andati venuti con Paolo ma poi viene il mezzo